Ciao a tutti, io sono Barbara, ho 20 anni, ho frequentato il Liceo Linguistico Galanti e mi sono diplomata nell'anno scolastico 2018-2019. Attualmente studio lingua e comunicazione per l'impresa del turismo all'Università della Valle d'Aosta e in particolare sto frequentando il secondo anno della mia trennale in Francia, a Chambéry. Quanto alla mia esperienza al Liceo Linguistico Galanti, conservo dei bellissimi ricordi e dunque la ritengo assolutamente positiva. In particolare io ho studiato inglese, francese e tedesco e al termine di questi cinque anni ho avuto l'opportunità non solo di riuscire a padroneggiare queste lingue ma anche di riuscire a sviluppare un'apertura mentale non indifferente questo anche grazie alle esperienze all'estero che il Liceo Galanti propone. In particolare io ho fatto uno scambio culturale con un liceo francese, con un liceo svizzero e con un liceo polacco in tre anni differenti e nell'ultimo anno ho fatto uno stage a Dublino di una settimana dove ho frequentato dei corsi di inglese. Inoltre il Liceo Linguistico offre anche l'opportunità di fare il percorso ESABAC un percorso che negli ultimi tre anni del liceo permette di studiare storia e letteratura in lingua francese e al termine di tale percorso si otterrà quello che viene definito un doppio diploma italiano e francese che verrà dunque riconosciuto a tutti gli effetti anche in Francia. Definirei questo percorso molto stimolante, molto positivo, sicuramente non facile ma con dedizione, impegno e costanza si riesce a raggiungere tale obiettivo e in generale auguro a tutti i futuri alunni del Liceo Linguistico Galanti un grande in bocca al lupo e una buona riuscita negli studi. Grazie a tutti.